Valentina Margarito, capitano dell'Italcave Real Stat, una stagione l'ennesima in Mali Rosso Blu per te, però con tanta voglia di far bene. Sì, con tanta voglia di far bene, sono ormai 14 anni che sono nel Real, è la mia seconda pelle questa maglia. Ovviamente sono molto fiduciosa perché stiamo facendo un buon lavoro e sicuramente daremo tante soddisfazioni. Spero di avere la possibilità di poter dare molte occasioni anche al pubblico per poterlo far divertire anche e soprattutto. L'avvicinamento del pubblico nella passata stagione dopo un distacco che si era creato, a dir la verità, il merito è stato tutte di quelle ragazze e gran parte sono rimaste. Sì, infatti siamo riusciti di nuovo a far appassionare i tifosi, abbiamo dato il massimo l'anno scorso anche perché abbiamo dato degli ottimi risultati come si è visto grazie alle ragazze dell'anno scorso che una buona percentuale è rimasta qui. Sono certa che anche quest'anno ci saranno tante soddisfazioni dove accontenteremo anche il pubblico sicuramente. Grazie. Grazie.